Da salutatore, ecco, grandissima sorpresa con Paola D'Averda. Sì, oggi qui per questa iniziativa, un calcio contro la criminalità, forse l'ordine magistrati appunto si sono ospirati in maniera amichevole per ricordare che in sezio un municipio a Roma e in Italia la legalità è tornata, quindi deve essere un appisio monico perché penso ancora di poter fare gli affari suoi in questo paese. Ecco, io ti ringrazio di questo messaggio e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan, sostenitori, un saluto speciale. Un saluto agli italiani, molte fan e sostenitori, cittadini del gran paese. Ciao ragazzi, ciao. E una sorpresa perché se la meriti, eccola qua, la manina del salutatore. E beh, ci vuole. Il salutatore, per forza, più mai. Ciao, grande paolo. Ciao ragazzi, ciao.